Le zone di via Roma o le zone intorno... Con l'incontro che si è svolto alla Memo, nel pomeriggio di giovedì scorso, si sono conclusi per il momento gli incontri programmati dall'amministrazione comunale per illustrare la bozza del piano regolatore e raccogliere proposte e commenti dai cittadini. L'ultimo incontro ha riguardato il centro storico e i quartieri limitrofi, prendendo in esame il piano delle relazioni. Un piano nato col presupposto di stabilire una connessione tra i diversi luoghi della città. La città dei prossimi anni, quindi, avrà un centro storico più esteso che dovrebbe ampliarsi verso il mare e al di fuori delle mura verso il quartiere della Trave, di San Lazzaro del Vallato, comprendendo iniziative di servizi e di viabilità. Una viabilità sempre più dolce e una città dall'aspetto sempre più green. Ad ogni quartiere è stato assegnato un suo punto centrale, una piazza, un centro civico, una scuola, parcheggi, negozi, servizi essenziali. Si è ridotto notevolmente il consumo di suolo e sono stati inseriti nel piano regolatore sia il completamento degli interquartieri sia le modifiche della viabilità di Fano Sud. Alla caserma e al Vittorio Colonna è stata assegnata una funzione flessibile che potrà attuarsi a seconda delle occasioni. Si persegue l'idea di una Silver House, così come proposto dall'Inps. Per la Paolini, uffici pubblici, negozi, parcheggio interrato, uffici, inclusa anche la variante relativa alla costruzione della palazzina delle emergenze nei pressi dell'ospedale. Il tutto è stato illustrato, insieme ai suoi tecnici, dall'assessore all'urbanistica Cristian Fanesi. Il centro storico a Fano ci si viene per stare insieme, per venire alla Memo, per andare al ristorante, al bar, eccetera, ma ci si deve anche pur vivere. E quindi noi da questo punto di vista cerchiamo di creare le condizioni. E poi c'è tutto il tema del commercio, per cui una grande tutela a le strade principalmente convolte nel commercio, come via Garibaldi, via Cavour e Corso Matteotti, dove al piano terra non sarà possibile trasformare i negozi in abitazioni. Il primo tema è la viabilità. Prevediamo il prolungamento delle strade interquartieri, il collegamento delle strade interquartieri con le opere compensative in località Belgatto. Abbiamo previsto anche a sud, ovviamente, il tema delle viabilità, con la creazione di una nuova strada, diciamo, parallela all'autostrada, che colleghi appunto la quartiera di Tombaccia con Marotta. I parcheggi saranno realizzati più in zona mare? Sì, noi abbiamo visto che nella zona mare ci sono delle aree ancora non edificate, dove potrebbe essere creato lo spazio per fare dei parcheggi multipiano, quindi andare in verticale sotto è difficile, in zona mare c'è l'acqua, quindi andare in centro è molto difficile perché ovviamente ci sono le tutele archeologiche, quindi la soluzione che noi abbiamo pensato è di creare due parcheggi multipiano in zona mare, ma abbiamo previsto anche un parcheggio multipiano sotto la caserma Paolini, non appena ci verrà restituita. Per il Vittoria Colonna, l'ex convitto, abbiamo avuto una proposta che è stata elaborata da un fondo beatrice dell'Inps, di proprietà dell'Inps. Noi gli abbiamo chiesto di usare gli spazi al piano terra, gli spazi semi interrati, perché noi vorremmo buttare giù idealmente quel muro che divide il Vittoria Colonna con il resto della città. Vorremmo che il Vittoria Colonna sia permeabile, che si possano andare i fanesi, oltre che i residenti che arriveranno, e possano essere utilizzati degli spazi anche per servizi collettivi.